ha qualificato la sua squadra per i giochi olimpici, l'Olanda gioca in casa per cui voglio dire abbiamo superato delle squadre assolutamente accreditate se poi volessimo fare proprio un paragone con il risultato di due anni fa noi giungemmo al terzo posto medaglia di bronzo con l'assenza comunque di Romania e Spagna a questo punto se dovessimo fare il paragone senza Romania e Spagna quest'anno saremmo stati al quarto quindi devo dire che questa squadra si è comunque comportata ottimamente è partita comunque anche Bergamelli in questo momento al corpo libero, la raccontiamo e quindi riteniamo a raccontarvi questa doppia gara con la croata Tina Herseg alle parallele asimmetriche che vediamo mentre